A inizio febbraio è stato siglato l'accordo tra FIPE, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, e FIC, Federazione Italiana Cuochi, tra gli obiettivi del protocollo d'intesa, formazione e rafforzamento delle professionalità e promozione della cultura enogastronomica italiana, con una spinta sulla lotta all'Italian Sounding, che alimenta un mercato superiore ai 100 miliardi di euro.